Il fashion non può prescindere dal digital oggi, sia per comunicare quello che sta facendo, per farci trovare, sia per innovare, sperimentare e trovare nuove idee dal web. Poi ad esempio, mi viene questo esempio qua, l'eccellenza italiana, se vuoi possiamo riassumere in fashion, in arte, essendo qualcosa di molto visivo, si sposano benissimo con il digital, con i social, penso ad esempio a Pinterest che ti dà la possibilità di creare un mood board, proprio come fanno le giornaliste e direi che per la moda è una cosa dalla quale non si può prescindere. Quello che volevo vedere l'ho già visto da pochissimo perché ho scoperto la notizia del 22 maggio che dice che Amazon, non so se l'hai letta anche tu sul web, ha lanciato il portale Moda Italia, si chiama Amazon Appigliamento e la vera innovazione è questa, hanno studiato questi geni di Amazon, un algoritmo che permette, adesso non so bene, l'algoritmo ovviamente non è stato svelato, comunque permette al cliente di mettere assieme gli acquisti e i passati, i capi ricercati e ti consiglia i capi più adatti per l'acquisto. E poi mi viene un'altra cosa, i gioielli giù fatti con la stampante, questa stampante digitale. Diciamo che in questo momento, magari un anno fa, potevo ancora avere qualche idea di innovazione, in questo momento quello che ho visto direi che è già una bella risposta. Poi sicuramente grazie al digital ci saranno altre cose e staremo a vedere.